Il progetto di riqualificazione di Porta Fiorentina e dell'autostazione a Sansepolcro in seguito alla calamità naturale del 5 marzo 2015. Cosa prevede il progetto? Intanto diciamo che noi fin dal 5 marzo abbiamo dato la nostra disponibilità per ricostruire il verde di Sansepolcro. Poi ultimamente verso la fine dell'anno scorso l'amministrazione ci aveva chiesto se potevamo studiare un qualcosa per riqualificare Porta Fiorentina visto che tra l'altro è un biglietto da visita di Sansepolcro e poi dove effettivamente c'erano stati diversi disastri. La previsione del nostro progetto è evidentemente di riqualificare tutta l'area, soprattutto anche di ridistribuire l'afflusso dei veicoli che attualmente è un po' congestionato e soprattutto cercare di creare la possibilità di trovare gli attraversamenti in una maniera un pochino più tranquilla rispetto a quello che avviene adesso dove purtroppo nello snodo proprio davanti a Porta Fiorentina sono avvenuti diversi incidenti. Quindi il nostro progetto, la nostra ipotesi progettuale che abbiamo elaborato perché è un progetto preliminare, non è un progetto esecutivo, mira appunto a queste tre cose. Nello specifico come cambierà la conformazione di questa zona di Sansepolcro? Noi riteniamo che sicuramente, visto che siamo stati i progettisti, di migliorarla altamente. Sicuramente nel nostro concetto era quello di dare spazio soprattutto anche al monumento dei caduti, al monumento dei mazzacurati. Quindi abbiamo cercato di, poi dopo si vedrà nell'esposizione che faranno i miei colleghi sul progetto, abbiamo creato di fare una piazza praticamente di aggregazione, cioè un luogo di aggregazione perché appunto si prevede degli ampi spazi con delle piante che logicamente potrebbero, hanno sicuramente una funzione anche di prosecuzione del viale Veneto e quindi soprattutto creare un'aggregazione di persone che possono stare tranquille e assedute, visto che ci sono delle attività commerciali vicino, usufruire anche del loro servizio senza pericolosità. Quindi riqualificazione ma anche valorizzazione di quello che già c'è che è molto bello. Sì, sicuramente. Infatti il nostro concetto era quello appunto di dare un nuovo assetto a tutta l'area proprio per riqualificarlo e usufruirlo in una maniera ben diversa e più appropriata per la cittadinanza. È possibile ipotizzare delle tempistiche? Ma diciamo tutto è frutto da quello che saranno le programmazioni dell'amministrazione comunale. Noi, come ho detto, abbiamo fatto una progettazione preliminare, un'idea che poi logicamente dovrà essere sviluppata qualora l'amministrazione abbia in animo di dare, anzi, un concetto che abbiamo cercato di mantenere è quello di farlo in due stralci. Un primo stralcio, ad esempio, la sistemazione davanti a Porta Fiorentina proprio e l'altro stralcio è quello più grosso, quello davanti all'autostazione. Però quello dipenderà dai programmi, noi siamo sempre disponibili, quindi dipenderà dalla prossima amministrazione quello che vorrà fare. E questo anche per quello che riguarda i costi, è ancora presto per fare una sorta di preventivo? Sì, diciamo che non è che abbiamo analizzato a fondo tutta la questione perché questo è oggetto di una progettazione esecutiva, per cui al momento in cui l'amministrazione, chi verrà, dirà andiamo avanti con l'idea, noi allora inizieremo a fare quelle esecutività e quindi anche sommare quelli che saranno i costi per queste realizzazioni. Sì, perché anno scorso, dopo il drammatico evento di marzo, molte zone cittadine sono state danneggiate fortemente e questa era una delle zone più danneggiate. I giardini dell'autostazione hanno subito davvero grosse perdite e subito era nata l'idea di poterlo recuperare e riqualificare tutto lo spazio dei giardini, rifacendolo così come era prima. Poi però, con il passare dei mesi, il progetto ha subito anche delle modifiche perché, grazie anche all'ingegno dei tecnici della consulta, è stato pensato un progetto ben più grande che non il ripristino della situazione precedente.